Nonostante la pausa di tutti i campionati sportivi, a Torino il weekend di Pasqua sarà comunque all'insegna dello sport e per chi rimarrà in città sarà anche l'occasione per scoprire alcune discipline meno conosciute, ma non per questo meno spettacolari. Dove andare ve lo diciamo noi in meno di tre minuti. Io sono Luca e questa è Sportorino TV. Cominciamo con la danza. A Torino è cominciato ieri il quindicesimo festival internazionale del tango argentino, che si concluderà nel lunedì di Pasquetta. Cinque giorni di esibizioni e spettacoli in giro per la città, tra il club Almagro di Via Perugia, Lotto Galleri e l'hotel NH Tech del Lingotto. Per tutte le informazioni visita il sito www.tangotorinofestival.com. Passiamo ora a una disciplina insolita ma decisamente emozionante, il volo a vela, che vedrà la 43esima edizione del Trofeo Internazionale Città di Torino, organizzata dall'Aeroclub Torino. Le gare sono cominciate stamattina e si chiuderanno sabato prossimo, ma la manifestazione terminerà domenica con la cerimonia di premiazione e la cerimonia di chiusura. Volate anche voi tra le cime innevate delle Alpi e la Valle del Rodano, e in becco all'Aquila tutti! Ma il weekend di Pasqua sarà anche all'insegna dell'Hockey su ghiaccio giovanile, con la seconda edizione del Torneo Internazionale Under-11 Little Rascals, organizzato dai Torino Bulls. Al Palatazzoli sono in arrivo 10 squadre da Francia, Svizzera, Piemonte, Lombardia e Veneto. Un po' di sana competizione, ma soprattutto tantissimo divertimento. E chiudiamo con il tennis. Ieri è cominciato al circolo della stampa Sporting l'Open BNL Femminile 2015, che terminerà domenica 19 aprile. In Palio c'è l'accesso alle prequalificazioni degli internazionali BNL d'Italia a Roma. Sono attese circa 150 giocatrici e le teste di serie faranno il loro ingresso in tabellone la prossima settimana. Lo spettacolo è appena cominciato. Anche per questo weekend di Pasqua è tutto. Tutti i link citati li trovate qua sotto, nella descrizione del video. E per rimanere sempre aggiornati sullo sport torinese, per le foto, i video e per sapere dove praticare qualunque sport a Torino ed intorni, visitate il nostro sito sporttorino.com. Noi ci vediamo venerdì prossimo. Buona Pasqua a tutti!